Presidente, è stato uno smacco per Forza Italia? Come? È stato uno smacco per voi? No, 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 io sono rietro che sia stato eletto il mio amico Ignacio Varuso. Avevamo fatto i tangoli che l'avrebbero eletto tutti, lo stesso. Abbiamo voluto dare un segnale che non si devono dare i veriti su persone, cioè che sono inaccettabili. Ma il governo non parte male così? No, 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 perché parte normale, assolutamente. Continuate la trattativa? Ma è già finita l'altra trattativa? L'hai finita bene? Sì, l'hai finita bene. C'è il ministero davanti? No, nessuno. Nessun ministero ha l'aronsolto, non le va bene? No, perché non ci devono dare i veriti. Andiamo da oggi. Attenzione. Ragazzi. .